ariete è un periodo ambivalente per voi passionale e agguerrito la sfera sentimentale riceve impulsi benevoli ardenti e arricchisce le vostre giornate ma dovete fare i conti anche con alcuni conflitti o disagi investono collaborazioni e accordi di lavoro toro state attraversando una fase leggera un oasi dove poter trovare consensi e gratificazioni in ogni settore della vita attualmente sono in primo piano le questioni inerenti finanze e intese di lavoro meglio darsi da fare per ottimizzare tutti i programmi in corso gemelli venere e sole sono in transito nel vostro segno e vi favoriscono nelle faccende amorose ma non solo amplificano anche l'inclinazione a dedicarvi a ciò che più vi piace secondo i vostri gusti non dimenticate l'estetica e la cura del vostro corpo cancro momento vivace ma a tratti un po aspro avete tanta energia e impeto dentro di voi e affrontate ogni problema a cuore aperto ma adesso intervengono discussioni nell'ambiente di lavoro oppure con chi vi sta vicino evitate di accumulare tensioni eccessive leone il cielo astrale vi investe con influenze positive e morbide di buona vitalità che vi portano alla ricerca del benessere personale dell'armonia e a una certa autoindulgenza verso i piaceri infatti è un momento rilassato che conviene trascorrere in serenità nonostante tutto vergine venere e sole dissonanti possono causare un allontanamento dai ritmi lenti e piacevoli procurano qualche lontananza o un po di stanchezza in amore adesso siete orientati verso programmi che vi portano a confrontarvi discutere e spostarvi anche geograficamente bilancia torna il sereno in amore vengono mitigati gli spigoli o ritrovate impulsi perduti oppure nuovi incontri vi attendono più problematico l'ambito economico e lavorativo dove emergono disaccordi e pressioni che disturbano la regolarità quotidiana scorsione momento di forza e determinazione avete voglia di rompere un andamento che non vi soddisfa e accettate anche le competizioni più spinte il periodo potrebbe risultare impegnativo a livello di nuovi progetti di vita e di lavoro una rivisitazione generale sagittario non è una fase di grande benessere quella attuale probabilmente siete un po' fiaschi e vi private di ciò che potrebbe rendere piacevoli le giornate per impegni o questioni pressanti le ragioni del cuore sono offuscate l'amore si rivela poco confortante capricorno siete preda di un conflitto interiore che vi porta in bilico tra rigido senso del dovere e voglia di rompere gli argini una volta per tutte il senso di oppressione vi irrita e vi fa accumulare tensioni che rendono difficile la capacità di giudizio praticate una forma di rilassamento acquario concedete a voi stessi il giusto spazio per rigenerarvi il quadro astrale offre influenze positive che rendono più facile e piacevole l'attuale cammino l'amore è privilegiato e vi trasporta verso atmosfere luminose dove lasciarvi andare ai sentimenti pesci in questo periodo un po' caotico dove si alternano momenti battaglieri e vivaci a momenti di smarrimento adesso è la sfera amorosa che vi vede pensierosi mentre diventano spesso pungenti i confronti con gli altri nel settore delle amicizie possibili questioni legali buone stelle buone stelle buone stelle Grazie a tutti.